Mi chiamo Alessandro Belluzzi, sono nato a Bologna, ho 23 anni e ricopro dal 2011 l'incarico di consigliere di quartiere qui al quartiere Savena e da cinque mesi sono presidente dell'Arcibenassi, nei ritagli di tempo, studente di storia contemporanea all'Università di Bologna. Ho deciso di mettermi in gioco e di candidarmi in questa lista dopo che Amelia Frascaroli me l'ha chiesto perché credo di poter contribuire attivamente a migliorare la città. Credo che tutti noi abbiamo una grande possibilità di mettere in campo nuove energie, nuovi punti di vista. Tutto quello che è stata l'esperienza che ho maturato in questi cinque anni di amministrazione, in questi mesi dentro l'associazione e nel mio piccolo come cittadino, credo che possa essere un valore aggiunto al Consiglio Comunale. Credo che sia importantissimo dire che noi sosteniamo il sindaco Virginio Merola come candidato sindaco perché abbiamo creduto e crediamo in quelli che sono stati questi cinque anni che con Amelia abbiamo portato avanti nell'amministrazione. Al contempo noi dobbiamo essere anche abbastanza maturi da avere una visione critica, anche quello di quello che è stato il nostro operato e candidarci a migliorarlo. Per troppo tempo le forze politiche si sono date come obiettivo il riproporsi e il dire che andava tutto bene e noi siamo qui per dire che andiamo bene ma potremo andare anche meglio nel futuro e ci candidiamo a fare questo. Grazie.